Buona Pasqua 2021 a voi amici di Facebook, alle vostre famiglie e soprattutto che siano in buon auspicio per il nostro futuro. Cristian Ruggeri vi saluto e se volete vi aspetto a braccia aperte con tanta musica sul mio canale YouTube. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. Tanto è gratis. Ciao, alla prossima.